Ciao ragazzi, io sono a un video con loro, con il team, salutate! Adesso proviamo a fare tante kill, come prima che hanno fatto il video tra la partita 18 kill, poi la seconda 16 poi 14, poi perse 12, tutte vinte adesso proviamo a fare 20, prima dobbiamo fare 20 ma ci hanno rubati quindi abbiamo fatto 18 ok raga, no non ci arrivo picco raga vado su una navicella poi vengo ma anche Mattia ci vi... Mattia dove è andato? cosa sta facendo? non c'è un'arma non c'è un'arma, che palle provare non ci arrivo da voi se c'è gente da voi aspettate che faccio metto bene il telefono lo metto più vicino così si vede meglio ok qua 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 ok ragazzi ci vede benissimo il live eh e il live il live io già interrovo di cielo allora no? no? chi è? io stoicito io mi devo fare un gioco adesso no, non si, io mi devo fare un gioco adesso non sa che muta perchè devi farlo anche il gatto non me ne frega buttalo giù si fa male perchè si fa male si fa male adesso basta parliamo di quanto non mi non fa male andato quindi non mi ferma e non stoicissimo non mi ferma mi fermo ve lo dico ho tre anni eh tre anni tre tre un barate Io non c'ho un pub Lo puoi portare? Ma Kimi, io ti dico che non sono piccolo Non sono arrivato Io non ho neanche shield Una shield Una shield di voi A darmi Col pc che consegono a me Eh sì, lo so Eh sai perché? Guarda Aspetta Eh sì, consenti sempre Devi metterlo Sì sì Chi mi metti? Allora vai su impostazioni parti Parti, impostazioni Poi vai su Consenti Consenti E consenti sempre di fare Adesso ti senti quindi Stavo andando su Dazon Che veramente non c'è nessuno da voi Veramente Eh, 20 bombe Come facciamo fare? Come facciamo fare 20 bombe? Non c'è nessuno da voi E quindi? Non c'è nessuno da voi Non c'è nessuno da voi E quindi? Eh, quindi Se non c'è un pompo andiamo a pusciare, non c'è niente. Aspetta andiamo sul montagno, c'è pure il pompo. Colpi cieco posso? Quel pompo me lo puoi dare? Oh, chiami se vedi quel pompo ti do una cappa verde più 108 colpi. Kimi! Eh? Colpi li puoi prendere? Ma raga andiamo subito! Oh! Dai! Oh! Leva una palla che andiamo corriendo! Tu vai muoviti! Dai! Leva una palla! E... Chi vuole questa roba prendere? Vai muoviti! C'è qualcuno dall'alto che spara dall'alto e poi guscia! No! Scherz! 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 Scherzo! C'è pure un tema dietro eh! Oh! Il tizio è bianco! Sì! 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 Che si chi mi... Sì! 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 Dini chi li vuole! Oh raga! Sì! Non c'era loot lì dentro! Sì! Non c'era loot! Non c'era un'arma! Alcara al suono! Chi? Chi sei te? C'è la professore perchè? e non c'è le cuffie no raga quale chiedete voi te vabbè scherzo io sono prima a zero no raga andiamo a usciare un'altra volta andate dove sono io e venite la rincorsa vai hai capito nabbo non è una finitura non la troviamo quindi sceldini che li tiene raga io ve lo posso scegliere solo ok non è 6 scegliere no eh si si ho visto c'è gente hai visto andiamo nella montagna a vederci andiamo nella montagna si 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 ragazzi vi aspetto sulla montagna c'è pure il telefonico dell'hamburger qualcuno sa qual è c'è scritto dove quindi non fate la raga raga oh guarda quanta gente la mi sembra no che qualcuno jump qualcuno jump raga si ti jump ti jump raga 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 non è stato forte al mondo pensate per non è stato forte al mondo per me realmente per me pensato per voi battute raga e stato di chi altre trentasette bombe ho fatto trentasette con chi con me vabbè vabbè quale che avete fatto voi 5 tipo eh non è vero dai 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 quanto avete fatto dai non dite bugie quanto avete fatto c'è lo screen oh Federico 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 mi incasso vieni qui vieni qui vieni qui vieni qui eh si ho un po' tutto ma quanto ha finito l'abbiamo ucciso vai ti ti puscia eh siamo chi è quanti sono quanti sono quanti sono non muore no 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 non puoi affidurlo a bocchino pam il frantumato è buono bella